Una giornata importante per Alice, scandita anche dalla partecipazione delle due giornaliste Nunzia De Girolamo e Maria Soave, che intervistate da Benedetta Piscitelli si sono soffermate sul ruolo dell'associazione come forza aggregante tra politica e imprese. Grande merito di Alice quello di far incontrare politica e imprenditoria. È il grande merito di Marcello Di Caterina e di Grimaldi per aver costruito un'associazione che non esisteva un comparto che finalmente dialoga con la politica, che consente al privato che fa utili e che è utile anche per creare e generare forza lavoro in questo paese di dialogare finalmente con la parte pubblica di cui non si può far meno. Questo paese ha bisogno di inclusione e nell'inclusione c'è il dialogo. Attraverso Alice è possibile, quindi chapeau a chi ha avuto questa idea. La comunicazione giusta la fa il brand, l'associazione, il marchio, l'azienda che riesce a tirare fuori anche i tesori interni, le professionalità interne. Devo dire che da quando ho incontrato il mondo Alice ho potuto conoscere un mondo variegato che va appunto dalla comunicazione come Alice Channel con tutto l'impegno che Alice ha messo per esempio non soltanto nella TV ma nel magazine, in queste grandissime organizzazioni e quindi il merito quando c'è una buona comunicazione soprattutto quello che c'è alle spalle. C'è una testa e un'organizzazione manageriale in grado di gestire tutto questo. C'è un'organizzazione managerial